Il paese praticamente è sostanzialmente vuoto, poi però c'è sempre qualcuno e lì non faccio mancare le mie sgridate anche social su Facebook o altro che purtroppo ancora non capisce, non capisce che il problema non è un problema di imposizioni illegali, di dire voglio farla franca e quindi io faccio lo stesso quello che devo fare, è un problema sanitario, è un problema di salute personale e nei confronti degli altri, quindi c'è ancora qualcuno che magari fa qualche assembramento, c'è ancora qualcuno che magari manda i figli a giocare al parco, noi su questo continuiamo ad insistere, continuiamo a dare la nostra voce affinché questo non succeda, però insomma ecco, questo per fortuna è limitato da una piccola parte della popolazione, la maggior parte direi che risponde positivamente e tutti fiduciosi che questo possa servire tra 15-20 giorni, un mese, quando sarà, quando potremo tornare tutti insieme fuori a far sì che il problema sia risolto e anche con quei pochi casi che finora tocchiamo ferro abbiamo avuto anche nel nostro comune e che si stanno risolvendo anche positivamente. Grazie a tutti.